Non posso più muovermi, mi ha dato anche un effetto strano, mi ha dato nausea, mi ha dato hunger, cioè vuol dire che ho fame e nausea nel suo momento Guardate, mi continua a fissare Oggi due nuovi SCP ragazzi, come ci dice Fabio ci sono due nuovi SCP quindi da subito un bel mi piace ma soprattutto ragazzi Importantissimo, se siete nuovi, se sei nuovo mi raccomando iscriviti al mio canale Col tastino rosso qua sotto è super importante questa cosa, cerchiamo di superare i 3000 mi piace ragazzi Oggi vi chiedo un bel numero di mi piace quindi lasciate un mi piace, mi raccomando Partiamo però con calma, ok, Fabio mi dice che vuole partire con calma Allora ti voglio premare dopo aver vinto il livello della ruota Ah, capisco ragazzi, facciamo così, se superiamo i 3000 mi piace come vi ho chiesto Vi riporterò una nuova sfida della ruota con gli SCP, magari con gli SCPX Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, magari con l'hashtag ruota SCPX Se superiamo anche i 1000 commenti vi prometto, entro domenica ne porto un altro di quel video Comunque, torniamo a questo video perché è importantissimo, due nuove SCP Poi, da qui in poi sarà tutto in salita, vuol dire che saranno molto difficili questi SCP nuovi Vabbè, ah, e gli oggetti a te utili sono qua in giro, cercali Ma come cercali? Vabbè, allora, facciamo così, partiamo da subito Allora, come vedo ragazzi, qua c'è la label, il cartello di SCP-006 Non di SCP-066 come ieri, 006, ok, non mi ricordo Mi sembra davvero già visto in Minecraft questo SCP Magari grazie a Marci in qualche suo video Allora, ha detto che in giro ci sono gli oggetti Proviamo ad andare verso questa porta innanzitutto, poi dopo andiamo a vedere Inceneritore? Mmm, io non voglio toccarlo questo qua, questo cartello, questa leva No, 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 non mi fido di Fabio e delle sue leve maledette Vediamo, magari qua c'è qualcosa, no, mettiamo via il libro Vediamo se magari torniamo di qua perché ho visto che c'erano anche questi gabbiotti qua giganteschi Uuuuh, un piccone della carne E qua dentro ci sarà, ok, altra carne e una spada Ehm, le ho trovate subito, com'è possibile questa cosa Vabbè, procediamo E credo che l'inceneritore attivasse sti cosi qui con della lava Vediamo, appunto Lo sapevo ragazzi, ci voleva farci fuori Fabio Oh no ragazzi, voleva farci fuori Perché poi qua c'era la, come si chiama, l'acqua della giovinezza Questo qui è l'SCP che tecnicamente se ti lanci dentro quest'acqua Che è un pelo più scura, un pelo un po' più strano rispetto all'acqua normale Sembra l'acqua di Minecraft 1.13 ragazzi Forse è anche un po' più limpida Tecnicamente questa qui dovrebbe darci degli effetti fenomenali ragazzi Perché dovrebbe salvarci la vita Ecco perché c'era da attivare l'inceneritore forse Guardate, mi dà esattamente Absorption 4 e rigenerazione 4 ragazzi Vuol dire che io, per morire, grazie a quest'acqua Non, praticamente non potrò mai morire Perché ho degli effetti veramente pazzeschi Vediamo se magari qua dentro ho altre protezioni Ho altri gambari Ho un secchio Ho una card di livello 3 Magari ci servirà più avanti Prendiamole anche un altro secchio Allora, facciamo così ragazzi Per essere sicuri al 100% di quello che facciamo Abbiamo già un secchio Prendiamoci un po' di questa acquetta Non posso raccoglierla Non posso raccoglierla Acqua miracolosa di SCP-066 vorreste dirmi Vabbè, peccato, ci ho provato Allora, ragazzi, facciamo così Il primo stage è andato Ci ha premiato Fabio Visto che l'altra volta abbiamo vinto quella sfida Meno male, ragazzi Il prossimo SCP, però Dovrebbe essere buono No, non buono Non per forza Ha detto che era in salita Quindi sarà un po' più cattivo Però dovrà essere nuovo Io, ragazzi, sono super mega felice Vediamo Già da qua vedo un laboratorio Con una finestra Con Tre monitor Ma cos'è? La stanza di Young Girl 2.0 Vediamo così Monitor Ok, là c'è una porta Là c'è un libro Vedete, ragazzi Nel fondo c'è un libro Ok, sono troppo felice Voglio subito entrare Vediamo Permesso Nuovo SCP 0025 Qual è SCP-0025? Cioè, io non ricordo, ragazzi Di aver mai visto un SCP-0025 in Minecraft Va bene Magari c'è qualche Ah, c'era il libro lì in fondo È vero Qua c'è il glass Ci sono due libri E perché davanti a un quadro? Cioè, voi vorreste dirmi che magari è tipo Come The Painting SCP-151 No, dai Speriamo di no Allora, vediamo se qua dentro c'è qualcosa Non c'è niente Qua dentro c'è qualcosa Non c'è niente Vabbè, a sto punto ragazzi Entriamo Tanto c'ho l'effetto Quello super mega Iper fortissimo Di rigenerazione Ma chi mi vuole fare del male in questa sfida Nessuno Allora Sediamoci Magari c'è qualche SCP qua strano No Sediamoci anche qua Niente Però qua c'è un altro libro Quali del mio leggo? Allora L'altra volta vi ho fatto fare la sfida di sinistra Destra E non so chi abbia vinto Perché avete fatto più di mille commenti E ora Questo esatto momento in cui magari guardate il video Sto vedendo i cuori Però cosa scelgo? Scelgo quello a sinistra stavolta Allora qua ci sono dei letti Vabbè Prendiamo il libro Allora Abbiamo un libro Qua c'è un altro quadro SCP-025 Leggiamolo SCP-025 È l'armadio qua a fianco Ma come? Apri e vedrai cosa succede Ehm Ragazzi C'era scritto Che SCP-025 È questo armadio Apriamo questo armadio E vediamo cosa succede Ok non mi Perché l'armadio mi ha dato dei vestiti? Appena l'ho aperto Appena mi sono avvicinato Guardate Mi ha dato Delle cose di tunica Delle cose di leather Me ne indosso ragazzi A sto punto Ah ecco perché C'era scritto che Gli oggetti di cui avevamo bisogno Li avremmo trovati in giro Cercateli Quindi l'armadio Che è SCP-025 Mi ha dato appunto Delle protezioni Per il prossimo E credo ultimo SCP E sono in leather Allora Però io ogni tanto Sapete che non mi fido di Fabio Però secondo me Oh no Non dovevo dormire Ehm Vabbè io dormo ragazzi A questo punto Così tolgo la notte Vabbè Oh grazie Qua c'è un altro libro Di qua cosa c'è? Ci sono degli specchi Che fanno un po' laggare tutto Ciao Ci sono io qua specchiato Va bene Un po' buggato Vabbè Ok E qua ci sono Un attuale Semplice Un coso con rubinetto Vabbè Qua c'è un altro libro Prendiamoci anche questo libro A questo punto In verità I vestiti che hai tenato All'armadio Non erano da indossare Perché dal momento In cui indossi 24 ore di vita No Ragazzi Non dovevamo indossare I vestiti di leather Erano maledetti Abbiamo hunger Perché abbiamo hunger Ve l'ho detto ragazzi Che erano maledetti I libri Ehi libri Oh cacchio Ho sbagliato Scusatemi Ve l'ho detto Che erano maledetti I vestiti In realtà non ve l'ho detto In realtà li ho voluti indossare io Però vabbè Ve l'ho detto Per niente ragazzi Cavolo Sono maledetti Quindi abbiamo 24 ore di tempo Quindi 10 20 minuti Su minecraft Vabbè Credo che abbiamo Un po' di tempo Per andare a sfidare L'ultimo scp Credo ragazzi Non lo so Adesso appunto andiamo Ciao Ciao Armadio scp 025 E c'è l'ultimo portone A due Ok Mi ricordiamoci ragazzi Che noi siamo Pinzeppi di effetti Quindi siamo ben protetti Verso l'ultimo scp di oggi Sono un botto in ansia Vediamo Permesso Cosa scp 080 E che diamine è scp 080 E poi è tutto rosso Non ho mai visto un cartello così rosso ragazzi Anche qui come prima ragazzi Per spiegarci l'sc piccolo che ci sia questo libro Però voglio guardare se in giro davvero si nasconde qualcos'altro Perché da quanto vedo sembra il laboratorio di 280 Un pelo modificato con della concrita nera a muro Con questi blocchi qui che sono secondo me fantastici ragazzi Date un voto a questi blocchi qui grigi Secondo me sono bellissimi Qua ci sono però delle serie diverse Sto prendendo danno Eh occhio Occhio ragazzi stiamo attenti a sederci qua sopra Poi vediamo Qua magari c'è qualcos'altro SCP 080 Ok Sono carico Voglio leggere assolutamente il libro Per questo scp Allora Ti avevo avvisato SCP 080 è veramente malefico Quando entri in contatto con lui attento Perché ti farà addormentare E ti darà degli effetti terrificanti Tecnicamente SCP 080 è nuovo in Minecraft Ed è un'entità Che non si sa se ha una forma umana O è un'ombra O è un'ombra tutta quanta Diciamo Particolare Un fantasma È molto assomigliante a 280 Forse è per questo che riprende il coso dell'80 Però Da quando c'è scritto Ti fa addormentare Quindi ti fa sdraiarti Da degli effetti orrendi Allora Proviamo a entrare Come vedete Ho nausea Ragazzi avviciniamoci Entriamo Vediamo cos'è che è Oh cacchio Oh cacchio Ragazzi 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 è terrificante Ha gli occhi rossi Oddio Ma mi sono sdraiato ragazzi Mi ha fatto sdraiare ancora Guardate Non posso più muovermi Mi ha dato anche un effetto strano Mi ha dato nausea Mi ha dato hunger Cioè vuol dire che ho fame E nausea nel suo momento Guardate Mi continua a fissare Non posso fare nulla ragazzi Non riesco neanche alzarmi Sentite Continuo a premere Cosa faccio Ho finito l'effetto Forse riesco a alzarmi Ok E questo qua cosa vuole Sembra comunque buono Non sembra volermi fare del male Ok Con calma Muoviamoci ragazzi Guardate Adesso me ne vado da suo lato Se viene qua e mi colpisce ancora Secondo me Ragazzi no No ragazzi Eh guardate Mi ha fatto sdraiare ancora Ora mi ha fatto rialzare Ora mi ha fatto sdraiare ancora Mi fa rialzare quando vuole Decide tutto quanto lui E mi stanno Delle effetti incredibili Ecco Guardate Torna Mi fa sedere Mi fa praticamente addormentare Mi fa risvegliare quando vuole Guardate ancora Ragazzi Non sto capendo nulla Secondo me dovrei colpirlo E' fortissimo Questo sdp Oddio E ora non mi fa più alzare Cioè ragazzi Non riesco neanche per alzarmi Guardate Continua a premere Sto cavolo di ta Ok ce l'ho fatta Ok Io lo colpisco ragazzi Non mi fido più di questo mostro Andiamo Continuiamo a colpirlo Da quanto vedo però ragazzi Tecnicamente Non ci fa danno lui Cioè ci ha fatto un po' di danno prima Ok Facciamo finire la nausea Ragazzi Cavolo E' fortissimo Questo sdp Vediamo quanto c'è ancora 24 secondi di nausea Questo sdp qui ragazzi Mi è piaciuto veramente tantissimo Mi raccomando Come sempre Ditemi qua sotto In i commenti Qual è stato In questo video Uno dei tre Dei vostri sdp preferiti Magari fate anche una classifica Dal migliore al peggiore Mi raccomando Che mi ha detto Il cuore a tutti Iscrivetevi al canale Con il tastino rosso qua sotto Se ancora avete Se siete nuovi Se sei nuovo E' importantissimo Come è importante Scegliere uno dei due video Qua davanti Per rimanere Sempre sul mio canale Noi ci vediamo Un prossimo Guardate il video che è uscito Stamattina alle 11 E il video domani Delle 11 Ciao